Vorrei, vorrei uscire da questa solitudine, vorrei avvicinarmi ai miei amici, ai miei nonni e miei cugini, vorrei rivedere le piazze piene di gente, vorrei risentire il traffico nelle strade, vorrei vedere una partita allo stale, vorrei prendere l'aereo e andare da montare, vorrei essere finalmente libero, ma chissà, mi assalgono la paura e l'incertezza che c'è più non accadrà, una speranza si affende e mi illumina, che questo virus prima o poi scomparirà. Grazie per la visione!